Nuova settimana e quindi andiamo a fare la Crypto Week e oggi vi mostro qualcosa di molto più importante rispetto ad un'analisi fondamentale ossia le possibili entrate che potreste andare a ipotizzare di andare a inserire nella vostra strategia di acquisto di Bitcoin per quanto riguarda proprio questa fase di mercato prima dell'ultimo sprint della bullrun che dovrebbe esserci all'incirca da fine novembre fino ai primi dell'anno prossimo ma come al solito prima di incominciare vi chiedo di lasciare un like, a me serve tantissimo per crescere su questa piattaforma di commentare qui sotto con qualsiasi domanda, dubbio o curiosità, di andare a iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare Incominciamo come al solito con andare a guardare CoinMarketCap che ci mostra una capitalizzazione di mercato di 2.581 miliardi di dollari con un volume nell'ultima 24 ore di 111 miliardi di dollari una Bitcoin Dominance che scende quasi al 40% e un Ethereum Dominance che sale al 20% abbiamo Bitcoin che vale 57.428 dollari per singolo coin con un aumento nell'ultima 24 ore del circa 6% invece Ethereum un aumento dell'8% nell'ultima 24 ore Binance Coin un aumento del quasi 6% nell'ultima 24 ore Solana del quasi 12 Cardano 7.5 e così via andiamo a guardare le top gainer della settimana e troviamo Gala con un più 60.68 Sandbox con un più 61 Basic Attention Token quindi BAT con un più 47 Ample 4 con un più 30 Decentraland con un più 23 Terra Luna con un più 23 Insomma queste sono le crypto migliori della settimana Andiamo a guardare invece le top loser e sono Icon con un meno 23 Voyager con un meno 22 Avalanche con un meno 21.5 Cosmos con un meno 18.41 Erlo con un meno 16.32 Allora andiamo a guardare la cosa più importante proprio di oggi Ossia le possibili, prima di tutto la fase di mercato e lo stato nel quale ci stiamo trovando a livello di prezzo Dopodiché andiamo a vedere le possibili entrate Come potete vedere questa prima di tutto è una linea di demarcazione dal mio punto di vista Perché è stata una resistenza e un supporto in diverse fasi di mercato Andando a guardare in passato possiamo trovare una resistenza in questo caso Una resistenza in questo caso Abbiamo trovato un supporto in questo caso Una resistenza in questo caso Abbiamo anche trovato un altro supporto in quest'altro caso E quindi dal mio punto di vista i 53.200 circa dollari Sono un buon punto Su un buon livello di prezzo Sul quale mettere la nostra attenzione Nel caso in cui volessimo entrare a mercato Andiamo a guardare prima di tutto Un ritracciamento di filbonacci Che è stato messo dall'inizio della bull run Dopo il dump importante Fino alla fine di circa di luglio 2021 Fino ad oggi Al top di oggi E qui anzi all'all'time high E quindi vediamo che ad oggi è arrivata Il livello di prezzo elevato ai 38.000 dollari E potevamo ipoteticamente Ipotizzare una entrata Sia nei 60.000 Un'altra all'incirca nei 53.000 E se volessimo addirittura andare a fare le cose Ancora in maniera più dettagliata Potremmo anche andare a riportare Un ritracciamento di filbonacci Andando a prendere l'ultima gamba dell'estensione Che c'è stata Quindi da questo punto Fino al nuovo all time high E andiamo a guardare le possibili entrate Che possono essere anche sui 57.000 dollari E anche ipoteticamente tra i 53.000 e i 54.000 dollari In questo caso quindi avremmo potuto O potremmo ipoteticamente Perché ad oggi siamo ancora sui 57.000 dollari Andare a fare piccole entrate Quindi a questi livelli di prezzo Andando a prenderci tutto il pump possibile Che in questo momento Ha da offrirci il mercato E inoltre andare a ipotizzare Di poterci preparare Per un possibile esplosione del prezzo Che tutti quanti noi ci auguriamo Arrivi verso la fine barra inizio anno Inoltre andiamo a guardare Che comunque l'RSI è abbastanza scarica In effetti siamo in una direzione Di downtrend Che va a confermare anche la direzione Della price action Ma possiamo vedere uno stocastico Che in questo momento Sta incominciando a caricarsi Ha toccato il livello 0 Ha toccato anche il livello Circa dei 20 Dei 20 E ha incominciato a spingere verso l'alto Mi aspetto da oggi Fino alla fine della settimana Almeno una nuova IRI Quindi un nuovo top E andare a vedere insomma Cosa può succedere Se dovesse andare a rompere Quindi il vecchio time high Ho ancora a chiudere comunque il mese In una fascia tra i 50.000 dollari E i 60.000 dollari Quindi dal mio punto di vista C'è la possibilità di poter effettuare Entrate ricorrenti in maniera oculata Andando a lavorare su questi livelli di prezzo E andando poi a detenere tutto quanto Fino a quando il Logicamente sapete benissimo Vi ho già fatto un video Per capire quando dovremmo vendere Ma vi voglio comunque mostrare Il Diciamo L'indice che utilizzo più spesso Ossia Il P-Circle Nel momento in cui il P-Circle Dovesse andare a incrociare La media 111 Con la media 350 Periodi per 2 Andremo a vendere tutto ciò Che abbiamo accumulato In questa fase Per andare logicamente A prendere del profitto Questo logicamente è una Una tecnica che utilizzo io Quindi non è una tecnica che deve essere Obbligatoriamente utilizzata da tutti quanti Ma io lavoro in questa maniera E volevo mostrarvela Inoltre andiamo a guardare anche Il livello di Ash rate Applicato sulla blockchain di bitcoin E possiamo guardare che Continua a crescere In questo momento è andato un po' dump Ma dal 167 milioni di tera hash Siamo passati comunque a 155 Quindi siamo comunque molto molto alti Inoltre andiamo a guardare anche L'indice fear and greed Che è al 33 Quindi c'è paura sul mercato Ma la cosa assurda È che pur essendoci per ora Tutti quanti pensano che ci sia ancora Ampio spazio di crescita Per un nuovo pump E quindi un nuovo old time Per quanto riguarda bitcoin E quindi anche il restante mercato Eppure non mi spiego perché Anche essendoci questa paura La gente continui a pensare ciò Ma molto probabilmente È una fase di distribuzione In questo momento Il mercato E quindi dobbiamo soltanto Attendere Una nuova spinta verso l'alto Dopo che magari tutte le balene Hanno fatto scorta di bitcoin Inoltre andiamo a guardare Le 5 cose da osservare Questa settimana E guardiamo prima di tutto bitcoin Che comunque è risalito Da i circa 52 mila dollari Andando a ribalzare Fino ai 57 mila dollari In maniera molto veloce Ma andando comunque a guardare Questo canale discendente Che si è andato a creare sul prezzo In effetti Se andiamo sul 4 ore Possiamo subito vedere Che cosa è successo a bitcoin Andando a cancellare magari tutto quanto Che cosa è successo a bitcoin Che sta mostrando in questo momento Un canale discendente Che in effetti È diventato anche abbastanza importante E non possiamo quindi negare La sua esistenza Ma continuando a guardare I grafici Comunque vediamo che Molte persone Tra cui anche Coloro che vanno ad analizzare Per quanto riguarda Cointelegraph Sono nettamente in Positivo A livello di sentiment Quindi Molto probabilmente Ci sarà Una Ancora Piccola bull run Prima del Ormai preannunciato Bear market Anche se Come potete vedere La coronavirus Replica In marzo 2020 Probabilmente A causa Di Un'ipotetica Nuova Variante Ormai Siamo abituati A questa Storia Potrebbe esserci Un dump Del mercato Che non andrebbe Interessare Soltanto il mercato Delle criptovalute Ma anche il mercato Azionario Quindi della finanza Classica Anche Questo momento Comunque viene definito Uno dei momenti Migliori Quello dei 50.000 Dollari Quindi questa fase Di distribuzione Quindi di offerte Di bitcoin Dopo quello Dei 30.000 Ossia La fase Che abbiamo Vissuto All'incirca In questo Momento Di mercato Come vedete In questa Aria Andando inoltre A guardare Ancora una volta Il Ciò che dobbiamo Tenere presente In Le 5 cose A tenere presente In questa settimana Sono queste Ossia La possibile Questa è un caso In realtà Non siamo Nettamente certi Di ciò che sta Succedendo Ma è Una strana Coincidenza Il movimento Di mercato Che c'è stato Per il gold Ossia l'oro Nel 1970 Rispetto al movimento Di mercato Quindi alla price action Di bitcoin Nel 2021 Come potete vedere È quasi Totalmente Identica Andando a guardare Quella gialla Che è il movimento Di loro E andando a guardare Quella blu Che è il movimento Di bitcoin Inoltre Novembre A quanto pare Il loro Chiuse In proiezione Su In proiezione Nel senso Rispetto a bitcoin Quindi bitcoin Dovrebbe chiudere Sui 58 90 mila dollari Come Per andare A fare pari e patta In realtà Molto probabilmente Non ci sarà Questa chiusura Mentre dicembre Addirittura Tra i 70 E i 105 mila Gennaio Tra i 111 170 E i primi Di febbraio Tra i 180 E i 280 E i 280 mila Dollari Questo Logicamente Ha un Insomma Ha una Affidabilità Abbastanza Che lascia Il tempo Che trova Insomma È comunque Una proiezione Un qualcosa Che sembra Simile a Ma la realtà De fatti È che Nessuno sa Come potrà andare Il mercato Anche perché Per muovere Questo mercato Ad oggi Ci vogliono Ormai Capitali Abbastanza Importanti Quindi A meno che Non ci siano Grossissime Balene All'interno Del mercato E sicuramente Ci sono Non si potrebbe Mai avere Una riproduzione Della Della price action Rispetto a quella Del gold Nel 1970 Ultima Notizia Da tenere presente Ossia Moon Vember Ossia Il Diciamo L'unione Tra moon Quindi To the moon E novembre Il sondaggio Fatto Da bitcoin Su twitter Come potete vedere Nel momento in cui È stato chiesto Sotto i 50 mila Tra i 50 e i 55 Tra i 55 E i 60 All'incirca 60 mila È stato Valutato Col 35% Di risposta Verso i 60 mila Quindi a quanto pare Anche su twitter Tutti Gli utenti Che sono andati A partecipare A questo sondaggio Hanno preferito Andare a dire Che il prezzo Potrebbe fermarsi All'incirca 60 mila Dollari Per quanto riguarda Questo mese Ad oggi Potrebbe essere Ancora una cosa Fattibile Anche perché Non siamo Tanto lontani Dai 57 ai 70 mila È veramente Uno schiocco Ma Dobbiamo sempre Pensare Che c'è La possibilità Che il mercato Dampi O comunque Che faccia Qualche movimento Strano Purtroppo causato Da grossi Spostamenti Di capitali A causa Di balene E quindi Come avete visto Anche questa settimana C'è un sentimento Abbastanza positivo Per quanto riguarda Il mercato Delle criptolute E soprattutto bitcoin Ma continua Ad esserci Una lateralizzazione Del prezzo Che va Tra i 55 mila E i quasi 59 mila dollari Quindi È un range Di prezzo Abbastanza Contraddistinto Da Una scarsa Fiducia Nel mercato A causa Delle notizie Esterne Al mercato Stesso È comunque Una forte voglia Di far crescere La criptovaluta Bitcoin Logicamente Fino a toccare I massimi Che tutti quanti Ci auguriamo Ormai Da diversi Mesi Anzi Quasi anni Io vi ringrazio Come al solito Vi ricordo di mettere Mi piace Commentare qui sotto Iscrivervi al canale Andare a visitare La mia pagina Instagram Davidevasco85 TikTok Davidevasco85 E se volete Contattarmi su Telegram Davide In neta bassa Vasco Vi ringrazio Vi ringrazio Vi ringrazio Ciao a tutti ragazzi